Oggi facciamo i numeri decimali. Cos'è questo? Questo è il cerchio della nostra frazione e vale 1. È un intero. Io ho diviso questo nostro intero in 10 parti. Ho preso la forbice e ho tagliato una di queste 10 parti. Adesso faccio un esempio con un'altra. Quindi questa tagliata ha il valore di un decimo. Quindi abbiamo il nostro intero. Io ho tagliato quindi questo al valore di un decimo, cioè la decima parte del nostro intero. Ora il nostro 10, faccelo qui, io l'ho diviso in 10 parti. E l'ho tagliato. Questa è la decima parte del decimo. Quello è un centesimo. Ora io questo centesimo, taglio un altro, lo voglio dividere in 10 parti. Questo sarà piccolissimo, anche difficile da tagliare. Guardate, guardate com'è sottile. Ed è la decima parte del centesimo, cioè il millesimo. Quindi utilizzando i numeri io potrei scrivere che ho 1, che è il nostro intero. Davanti io ho un 10, ho il 100 e ho il mille. Il mille lo scrivo qui, non ci sta. Ed ora io taglio e faccio i bigliettini. Questo è il nostro 1, il nostro intero. Io conosco il 10, cioè 10 di questi, 100 e conosco anche il mille, che ora vado a tagliare. Ora la nostra rappresentazione, però, parla di numeri più piccoli dell'intero. Allora io so che davanti ho la decina, 10 volte più grande. Sapete come si scrive 10 volte più piccolo? Guardate. 0,1. 0,1. Perché vuol dire che io ho 0 interi e una decima parte dell'intero. La stessa cosa con le centinaia. 100. Il centesimo è 0,01. Perché ho la centesima parte dell'intero. E' uguale col mille. La millesima parte dell'intero, quindi 0,001. Ora, io avevo preparato i cartellini più belli e ve li faccio vedere. Ecco il nostro intero. Il 10, il cento e il mille. E ho preparato anche 0,1, 0,01 e 0,001. Vedete che c'è una relazione tra le decine e i decimi, oltre che di colore, anche di scrittura vi ho fatto vedere. Centesimi e millesimi. Quindi mille volte più grande, mille volte più piccolo, cento volte più grande, cento volte più piccolo, dieci volte più grandi, dieci volte più piccolo. La stessa cosa si scrive, e vi ho fatto un riassunto, con unità. Vedete, l'unità è il perno. Io ho costruito sopra la corona. Perché l'unità è il perno dei nostri numeri. Ho fatto la relazione dalle decine ai decimi, dalle centinaia ai centesimi e dall'unità di migliaia ai millesimi. Che vuol dire mille volte più piccolo, cento volte più piccolo, dieci volte più piccolo. Ho scritto i nomi accanto, unità di migliaia che conosciamo già, centinaia conosciamo già, decine e unità conosciamo già. Ora impariamo decimi, centesimi e millesimi e la loro stretta relazione.